Molto molto bene, molto reattivo, anche giocare in due potrebbe essere molto sorprendente Oggi vi parlo di un prodotto che ha dell'incredibile Perché se siete collezionisti sarete anche amanti, di solito la maggior parte è così, sono amanti del retro gaming E io giusto 3-4 settimane fa mi sono chiesto Mi piacerebbe avere nella tv della camera qualcosa per giocare a tutti i giochi vecchi Parte questa collaborazione con vintgame.com e mi mandano un prodottino veramente veramente carino Questa Game Stick con attacco HDMI All'interno ci sono un po' di giochini, un po' di emulatori, un po' di giochini diciamo 10.000 giochi Io l'ho provata per una settimana e qui vi dirò i pregi e i difetti Questo video in collaborazione con loro a me sono stato molto chiaro, dirò tutto quello che penso E sono stati molto gentili a delucidarmi su delle questioni di questa Game Stick Al suo esterno trovate la foto del Game Stick con il pad, con le varie caratteristiche Dietro troviamo altre foto che riguardano la Game Stick e lo andiamo ad aprire Io l'ho già aperta quindi se vedete cose strane dentro è perché le ho rimesse dentro ragazzi Game Stick all'interno, dentro troviamo i due pad che sono molto simili a quelli della Playstation 4 e Playstation 3 Sono più leggeri ovviamente di quelli originali perché non sono pad Playstation Si agganciano poi alla Game Stick Eccola qui la Game Stick ragazzi 4K È abbastanza lunga Qui dentro ci va la chiavetto USB che vi danno in dotazione Quindi la andiamo a inserire, è molto semplice da usare Cavetto minimo USB I ragazzi di Vint Game vi invieranno un video su come inserire le ROM all'interno di questa micro SD Vi ricordo che già al suo interno ci sono comunque 10.000 giochi Tappo per portarvela anche in giro, potete portarvela in viaggio La apriamo, l'HDMI frontale, voi attaccate questa alla TV Allora, l'unica cosa che nelle TV non ci sta, non in tutte perché occupa un po' di spazio Quindi hanno pensato bene di darvi insieme questo cavo adattatore per allungare la questione Quindi eccoci qua, vedete? Voi l'attaccate all'HDMI e questo funziona benissimo Il cavo minimo USB che serve per alimentare appunto il tutto Non vi danno la presa di corrente e ci sta perché tanto ne abbiamo tutti a casa 100 miliardi Il controller invece come potete vedere è molto Playstation Inside Lasso di accensione qua sotto, switch up e si accende per la connessione Si autoconnette alla Game Stick una volta che la accendete Quindi non c'è bisogno di fare nessun tipo di configurazione L'ho provato, funziona bene, ovviamente lo sentirete che è molto plasticoso Ma ragazzi, è un controller compatibile che fa il suo sporco dovere Funziona con due batterie AAA che vi consiglio sempre Adesso queste qua non sono ricaricabili Ma vi consiglio di utilizzare le ricaricabili Che vi lascio il link in descrizione per comprarne un bel pacchettone Così ve le ricaricate e non vi finiscono mai Molto semplice, andiamo a vedere dallo schermo cosa succede E il menu della Game Stick 4K Ecco cosa vedrete nel menu con i grilletti Vedete? Andate a selezionare tipo la storia Quello che ho giocato io, che ho provato in questi giorni Preferenze, cercare Qua cercate il gioco nella Game Stick Ora, per quanto riguarda tutto il resto È molto semplice Qui abbiamo tutti gli emulatori che sono integrati Sento un po' la mancanza del Nintendo 8-bit Ma questa cosa l'ho già detta anche a loro Che magari con aggiornamenti futuri Questo non ve lo garantisco io Però magari si potrà anche fare Tanta roba che c'è la PlayStation 1, il Mega Drive e il Super Nintendo Vi ricordo che le ROM sono espandibili Quindi basta che le installiate E le avete all'interno Ora, io direi di provare un gioco qualsiasi Partiamo con il Super Nintendo Che è il mio preferito Ci vuole un attimo, prima che legga i giochi Questa, ecco, qua ci vuole un po' di tempistica Nel senso che non è così immediato Ok, una volta che avete scelto il vostro gioco Proviamo con un Donkey Kong che chi non lo conosce Partiamo Vedete, il controller lo sto usando Ed effettivamente funziona bene Cioè, vedete? Funziona bene, funziona molto bene Vedete ragazzi che sto giocando Donkey Kong E guardate Molto, molto reattivo Funziona molto bene Per tornare al menu Vi faccio vedere anche Questa è mode E potete salvare anche salva stato Vedete, potete salvare direttamente la partita Slot di salvataggio E decidere quale slot di salvataggio salvare Salva stato E siamo a posto Se poi noi facciamo questa cosa qua Andiamo in mode E facciamo carica allo stato Lui riparte Da dove abbiamo salvato Figata Perché una volta non c'era questa cosa Si bestemmiava abbastanza forte Ora direi di uscire al menu Come si fa? Così Si fa Esci da RetroArc Proviamone un altro Poi passeremo a un'altra console Così vediamo se funziona tutto Proviamo le Boh, no, ho sbagliato Vabbè, volevo provare le Ninja Turtles Però ho cannato totalmente Comunque avete visto anche la rapidità con cui parte Quindi Sembra abbastanza fico Sembra molto fico Intanto io ringrazio i ragazzi Che me l'hanno mandata da Recensire Perché la desideravo da parecchio Figaggine Figaggine Vabbè Usciamo che l'abbiamo capito Quindi Per uscire Così Da PS1 Che ne so Ah, Blade Ci giocava Proviamo Blade Marvel e Activision Ragazzi Già Marvel ai tempi Bombetta atomica Vediamo come risponde il controller Con questi giochini anche un po' più pesanti Per l'hardware che è lei Vediamo un po' cosa succede Per ora Per ora risponde molto bene Normal Start game La fluidità c'è Ovviamente ricordiamoci che è un emulatore Quindi Non è la console Ok Direi che funziona bene C'è qualche problema nell'audio Che si sente un po' gracchiare Ma quello Credo sia dovuto dall'emulatore Proviamone un altro ragazzi Vediamo cosa succede Con un altro Ah, sentite C'è un rallentamento Della Dell'audio Questa cosa Mi hanno detto Che può capitare Se la ROM è buggata Bisogna provare delle ROM Anche differenti Alle volte Quindi Basso un po' il volume Che se no non mi sentite Io su Crash Ho avuto qualche problemino Che mi sono fatto spiegare Ossia Il fatto che ci sia stato Qualche rallentamento Anche, no? E mi hanno detto Mi hanno spiegato Come vi spiegherò a fine video Che dipende anche dalle ROM Che ci sono installate Perché ovviamente Non è che possono provarle Tutte Quante Ognuna Il gioco Tutto intero Le ROM si trovano anche in giro Alcune sono bugate Questo ve lo garantisco anch'io Per chi ho RetroArch Sull'Xbox E può succedere Capita Può capitare Vedete? Questa ad esempio È una ROM buggata Vedete che è sparito anche Crash Qua Questa è una ROM buggata Che andrebbe sostituita Proviamo Che ne so Wipeout Che è un bel gioco veloce Vediamo come funziona Capiamo se è un problema generico Della ROM Cioè degli emulatori O delle ROM Perché può essere Sempre una delle ROM Ragazzi Veramente come mi hanno detto loro Probabile Io però devo dirvi le cose come sono Quindi No Ragazzi Wipeout Funziona molto molto bene Ah Sì sì Funziona bene Quindi sono le ROM Buggate Che Andrebbero sostituite In realtà Quindi ragà Dovete anche Un po' Poi comunque loro vi mandano le istruzioni Su dove trovarle Come installarle Eccetera eccetera Non vi lasciano nel panico State tranquilli Ragazzi Ricordatevi sempre Che stiamo emulando dei giochi Su una game stick Grande come due dita E Una volta c'era bisogno Una console Eccetera eccetera Quindi si parla sempre di emulatori A tutto tondo Però devo dire che Qualitativamente Vedete già questo Non ha problemi rispetto a Crash Quindi Crash era una ROM Diciamo Buggata Ora direi di provare Che ne so Tipo il MAME Tipo Street Fighter Proviamo Street Fighter L'emulatore del MAME E il MAME Ha una quantità di giochi Industriale Tra cui Metal Slug Tra cui un sacco Veramente di giochi Guardate che roba Funziona da paura Vi lo faccio vedere E Guardate Rapidità del controller Ma dai raga Bellissimo Bellissimo Capolavoro A parte che faccio Schifo Però Detto questo Molto molto bene Molto reattivo Anche giocare in due Potrebbe essere molto sorprendente E figaggi Il controller funziona da povere I tasti funzionano tutti E quindi direi Ragazzi Andiamo alle conclusioni finali Se no mi diverto troppo Game Stick funziona molto bene Abbiamo avuto qualche problemino Sui giochi PlayStation Ma mi è stato detto Che può dipendere dalla ROM Comunque loro vi daranno assistenza Vi daranno anche i siti Dove scaricare la ROM Qui In questo caso Io non vi dirò E non vi darò i link Per fare questa operazione La Game Stick Come avete visto Vi arriva con due controller Vi arriva con l'estensione Del cavo HDMI Si collega Si collega al controller Che va a batterie E tutto gira Molto molto liscio Come avete visto dal video Wipeout Andava molto bene In quanto Anche essendo un gioco veloce Non aveva cali di frame Crash Bandicoot Invece aveva un bug Ha avuto un bug Questo perché Come dicono anche i ragazzi Dipende dalla ROM Bisogna provarne Un po' di diverse Sul Mame Su Super Nintendo Nessun tipo di problema Anche altri emulatori Io li ho provati Tutto a posto Se volete Si possono implementare nuove ROM Si sconsiglia di aggiungere emulatori Perché bisogna essere Degli smanettoni E soprattutto Le manomissioni Del software Della chiavetta E altre cose Può portare alla rottura Tra virgolette Quindi la garanzia Poi ovviamente Non copre Se manomettete Del software Tra virgolette Perché così è stato installato E così deve essere giocato Quello che potete fare È aggiungere Le ROM Che c'è Questa chiavetta Su Amazon Che non è lei Mi hanno segnalato Che molti utenti La comprano pensando Perché ci sono proprio Le foto di questa scatola E invece in realtà Non è lei Arriva totalmente Un'altra cosa Che funziona male Perché magari La gente vuole risparmiare 10 euro E non la comprano Dal sito Che è Vintgame.com Che vi lascio anche Qua in descrizione Quindi Su Amazon Non c'è Loro la vendono Solo dal sito I tempi di consegna Sono tra i 7 E i 10 giorni lavorativi Esclusi weekend Quindi dovete avere Un po' di pazienza L'ordine viene evaso E se usate anche Il nostro Buono sconto Il nostro coupon Mamma me lo compri Avete diritto Al 10% Di sconto Immediato Sia Durante Natale Black Friday Feste Quando fanno degli sconti Loro Quindi verrà accumulato Uno sconto maggiore Sia quando Il prezzo È il suo Standard Tra virgolette Il prezzo Mi hanno consigliato Di non dirvelo Vi lascio un range Di prezzo Che può andare Tra i 79 E i 100 euro Che potrebbe essere Il prezzo A cui viene venduta Vi lascio questo range Perché poi andate sul sito Lo vedete Quanto costa E basta Ricordatevi di applicare Il coupon Batteria in descrizione AAA E ricordatevi Che se vi è piaciuta Questa puntata Potete lasciare un like Iscrivervi al canale E soprattutto Se la comprate Scrivermi anche Come vi trovate Con la Game Stick Grazie a tutti È stato bellissimo Come al solito Ci vediamo Alla prossima puntata Alla prossima puntata